Ero precedente grazie al dentista italiano che sette anni fa mi ha consigliato di intervenire. Quindi ha deciso di eliminarmi tutti i denti e di mettermi una protesi mobile all'età di 40 anni. Mi sentivo molto limitato in tutto, non avevo più una vita sociale. Prima mi riuscivo a masticare, adesso non riesco a masticare i cibi e quindi a mangiare in maniera un po' più anche genuina e non ingurgitare tutto senza masticare. Diciamo che la mia vita sicuramente mi drogata sotto l'aspetto della masticazione di tutte queste cose che prima non avevo. E come un uomo non funziona più, gli basta prendere una pastiglia di Viagra e funziona ancora. La differenza è solo questa. Mi sento paura anche di farti vedere in pubblico e invece adesso dopo l'impianto fisso mi sembra veramente di vivere in un'altra dimensione anche dal punto di vista fisico perché prima non riuscivo a masticare. È un ambiente comunque molto preparato. Ho trovato igiene, sicurezza e soprattutto una grande famiglia. Vi consiglio a tutti di venire a SOS con il Buonentale. Mi piace il mio confronto con Viagra. Era buono la prima.